In questo evento abbiamo utilizzato una tecnologia che ci permette di trovare delle soluzioni registiche che fino a qualche anno fa erano impensabili. Abbiamo scelto questi proiettori per il grado di libertà che ci concedevano, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista creativo. Sono piccole, sono leggere, sono potenti per le loro dimensioni. Il fatto che la loro ottica ci permette di avvicinarci allo schermo in maniera assolutamente entusiasmante, hanno un angolo di proiezione che ci permette di fare cose in più rispetto al passato. E soprattutto il fatto che le loro geometrie e le loro capacità di gestirle ci hanno fatto fare delle cose altrimenti inusitate. Il risultato sono immagini bellissime, nitidissime, soprattutto molto coinvolgenti, che migliorano e ottimizzano quello che è il flusso della comunicazione, l'efficienza della comunicazione.